più propensi a una fase difensiva che no a creare gioco offensivo ancora l'ennesima sovrapposizione di Dominici che poi si becca un cartellino giallo per simulazione era caduto in maniera abbastanza plateale dentro l'area di rigore appena toccato da un avversario ma insomma non c'erano assolutamente gli estremi del calcio di rivedere l'ha stersata intanto l'ha toccato prima di tutto vorrei rivederlo, lo chiedo al nostro Stefano Brunozzi non ha protestato Dominici però qui c'è stato il contatto l'ha toccato però ecco in queste situazioni io quello dico perché